Allora, ritorniamo in diretta e siamo pronti per il primo collegamento di oggi. Andiamo ad affondare lo sguardo nella nostra società in maniera particolare. Ecco, stamattina un occhio di riguardo ai colleghi giornalisti che organizzano ad Otranto il Festival dei giornalisti del Mediterraneo, giunto alla sua sedicesima edizione. Abbiamo in collegamento con noi per parlarci di questo importante evento, Tommaso Forte. Buongiorno Tommaso, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a te per la disponibilità, perché parlare di questo festival significa poi parlare di tanti temi caldi dell'attualità, ma facciamo le cose passo dopo passo. Intanto spiegaci come e perché è nato questo festival. Intanto il festival è nato per dare voce ai giornalisti, per raccontare le dinamiche professionali e soprattutto per raccontare i temi e gli avvenimenti che accadono nel mar Mediterraneo. E la Puglia appunto fa parte di quel mare di cui ha bisogno di raccontare. Il mare Nostrum non è solo emigrazione, non è solo guerra, ma è anche sviluppo economico e sviluppo del marketing territoriale. Noi con questo festival appunto mettiamo in vetrina tutte le potenzialità, non solo dal punto di vista della professione giornalistica, ma anche dal punto di vista dell'economia del territorio. Ed è assolutamente importante. Raccontaci quali sono i temi di questa edizione 2024. Ovviamente noi come ogni anno diversifichiamo i temi, molti sono i temi di quest'anno, sono molti sensibili, innanzitutto la parità di genere, le guerre, i conflitti, la tutela dei minori, la pace. Abbiamo il diritto di cronaca, quest'anno ripeto abbiamo grandi ospiti, tra cui il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che appunto avrà un confronto diretto con giornalisti, con Stefano Poli, il vice direttore dell'ANSA e con avvocati penalisti per appunto parlare del diritto di cronaca. Parleremo anche di tutelare dei minori, come si racconta la cronaca dei minori, come si tutelano i minori nel raccontare i fatti di cronaca. Lo faremo con inviati del T5, di Rete4, della RAI. Parleremo anche di temi legati ai conflitti, parleremo del ruolo dell'Europa, parleremo del ruolo dell'Italia, parleremo anche del pericolo di questa guerra che incombe e che si avvicina sempre più all'Europa e lo parleremo con giornalisti inviati dalla Repubblica, del giornale, del quotidiano avvenire. Cioè tutti i giornalisti esperti e presenti nelle zone di conflitti. Ecco, saranno una quattro giorni di grande responsabilità, parleremo anche di etica professionale. E ci arriviamo, un tema che toccheremo a brevissimo. Intanto abbiamo visto, grazie alla regia, la pagina ufficiale della manifestazione che potete intercettare su Facebook e attraverso Eccola Lì, attraverso la quale seguire più da vicino questo importante evento che si svolge nella straordinaria cornice della città di Otranto, nel Salento. Otranto, dove tu ovviamente sei già presente. Una domanda a me, na, che tempo c'è lì? È ancora piena estate? È ancora piena estate, infatti ieri sera ho fatto un giro e ho visto veramente una folla incredibile di presenze di turisti. E questo, senza dubbio, non può farci che piacere. Ma torniamo a focalizzarci sul Festival dei giornalisti del Mediterraneo e sull'importanza di comunicare oggi, tanto più che appunto si sono moltiplicati gli strumenti per fare informazione e comunicazione e non sempre in maniera direttamente proporzionale è aumentato il senso di responsabilità nel fare questo mestiere. Quindi ecco, quello che volevo chiederti è come si affrontano le sfide della comunicazione e dell'informazione nell'epoca che stiamo vivendo con tutti questi strumenti, in maniera particolare quelli digitali? Beh, intanto da colleghi possiamo dire che il mestiere del giornalista è come quello della medicina, è in continua evoluzione. Certamente oggi tutti quanti noi abbiamo una grande responsabilità, una responsabilità legata all'etica della professione e alla deontologia. È ovvio che sono cambiati gli strumenti. Per questa ragione appunto riusciamo a comunicare con migliaia di persone e per questa ragione appunto, come dicevo poc'anzi, abbiamo una forte responsabilità. Quello è soprattutto di raccontare la verità che spesse volte viene anche oscurata dagli editori. Ci sono tanti giornalisti che sono veramente dei veri professionisti, che spesse volte sono emarginati nelle redazioni. Quindi attraverso i social si riesce ad arrivare direttamente all'utente finale, cioè a colui il quale ci segue, con maggiore facilità. Ma questo va fatto sempre guardando gli obiettivi, l'etica, la responsabilità e la deontologia professionale. Ripeto, abbiamo una grande responsabilità come giornalisti. Eh sì, siamo assolutamente d'accordo. E realtà come il Festival dei giornalisti del Mediterraneo sono momenti preziosi di riflessione, di confronto e di crescita. Tommaso, gli eventi del Festival sono accessibili e aperti a tutti? Sono accessibili e sono gratuiti perché sono all'aperto, quindi chiunque vi può partecipare. E abbiamo anche uno staff che è pronto ad accogliere i diversamente abili. Che bello, complimenti, complimenti davvero. Se la regia ci offre un'immagine panoramica della splendida città di Otranto, io ne approfitterei a questo punto per invitare tutte le persone che ci seguono dal Salento. Ecco, grazie alla regia che puntualmente non ci fa mancare il suo supporto. Ecco, inviterei tutte le persone che sono presenti in questi giorni ad Otranto o più in generale nel Salento a collegarsi con la pagina Facebook del Festival dei giornalisti del Mediterraneo per poter godere anche di questi momenti culturali di altissimo spessore e dare ancora più valore alla propria vacanza. Tommaso, io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi oggi. Ti auguro buon lavoro e buona sedicesima edizione del Festival dei giornalisti del Mediterraneo. Magari ci potremmo anche ritrovare nei prossimi giorni per fare un po' il punto della situazione. Io mi permetto di ringraziare te, ovviamente l'attestata, gli ascoltatori e ovviamente l'invito rinnovato anche a voi. Vi aspetto ad Otranto. Molto volentieri, molto volentieri, se non fisicamente proveremo a restare collegati attraverso i potenti mezzi della comunicazione. Grazie a te Tommaso. Buon lavoro e buon festival dei giornalisti del Mediterraneo. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante ma ci ritroviamo subito dopo con un nuovo collegamento. Buon lavoro e buon lavoro e buon lavoro.